Il figlio della Vittoria Emanuele, quella colina l'acqua, il figlio della Vittoria Emanuele Alberto e insieme a Cavour, quel castello là per iniziare a Cavour, il conto di Cavour, questi tre inventano il Barolo. Il primo Barolo della storia è 1891, quindi è abbastanza recente il Barolo, non è una roba... Prima si chiamava Barolino, era dolce. Grazie a tutti.